In Epicurea, a Piacenza, un'estate di benessere per tutti. Una prova gratuita per ognuno di questi tre trattamenti. Riflessologia plantale, massaggio mani, collo, schiena, gestione dello stress e potenziamento dell'efficienza mentale. Semplicemente associandosi a Epicurea PS. Basta iscriversi, quota 2023, 20 euro. Un'estate di benessere per tutti. Chiamate al 340-069-4868 per prendere appuntamento. La riflessologia plantale porta una sensazione generale di benessere e di alleggerimento di quelle che sono la pesantezza delle gambe, soprattutto nella stagione estiva. Cura la ritenzione idrica. Si occupa delle disarmonie tra gli organi. Si occupa di tutto ciò che è raffreddamento, mal di gola, mal di testa. Può portare beneficio in tutte le situazioni di pre-menopausa e menopausa perché va ad agire sugli organi che producono gli ormoni buoni per noi. Un'estate di benessere per tutti. Chiamaci al 340-069-4868. Chiamaci e iscriviti. Chiamaci e iscriviti.